Riscatto gratuito della laurea, Baretta, se verrà realizzato solo per i nati tra il 1980 e il 2000 A Gempres. Arriva la notizia che il sottosegretario all'economia Pier Paolo Baretta sta lavorando al riscatto gratuito della laurea. Riscatto oggi troppo costoso che è al baglio del governo per fare in modo di semplificare il riscatto della laurea ai fini pensionistici E giusto ha detto Baretta che lo Stato investa sul futuro dei giovani e si assuma l'onere dei contributi figurativi degli anni di studio Una proposta al baglio per cercare la copertura finanziaria, ma, se sarà realizzata, varrà soltanto per i nati tra il 1980 e il 2000 Pensare di renderla retroattiva è impossibile, ha detto Baretta la spesa per lo Stato sarebbe troppo alta. Si potrebbero invece graduare i costi per alleggerire il riscatto di chi si è laureato in passato